Il nostro programma dà sempre grande attenzione ai giovani, abbiamo in studio, l'avevamo annunciato all'inizio insieme a noi, Enrica Crivello del sito blog Cervello i Fuori, che raccoglie giovani italiani che sono costretti ad andare a lavorare all'estero. Il suo libro ha lo stesso titolo di Uscita di sicurezza di Ignazio Silone, in cui c'è un passaggio autobiografico in cui si parla di frodi e abusi di potere da parte dei rappresentanti dello Stato. Silone, allora 17enne, scrive due articoli che vengono pubblicati su un quotidiano di denuncia rispetto a questi temi, articoli che però non godono di nessunissima eco, perché lui ha solo 17 anni e viene considerato uno studentello un po' esaltato. Ecco, era il 1915, facendo un salto temporale io mi chiedo cosa succederebbe oggi e non so se gli articoli verrebbero pubblicati, ma sicuramente l'opinione di un 17enne non godrebbe di nessuna autorevolezza. Dico questo con sicurezza perché io di anni 27 sono da poco rientrata in Italia e nemmeno l'opinione dei 27enne in Italia effettivamente gode poi così di tanto ascolto. E paradossalmente quello che succede è che è più facile portare le proprie idee all'estero. Ora lei ha fatto questa proposta di legge rispetto ai giovani, quindi lei si è accorto probabilmente di questa situazione e fa questa proposta di legge in cui propone che il voto dei giovani fino a 40 anni valga il doppio, per cui se io vado ai seggi mi vengono date due schede per ogni camera. Mi chiedo e le chiedo se probabilmente la situazione da cambiare sia invece un po' più alla base, no? E se semplicemente anche più democraticamente non bisognerebbe fare in modo che i giovani valessero esattamente come tutti gli altri, non il doppio. Non è la risposta perché siamo in chiusura, abbiamo solo un minuto. Era solo un modo per attivare l'attenzione sul problema e secondo me il doppio voto non è poi così sbagliato, infatti ho fatto la proposta. Sicuramente sono cose più complicate e più ampie che non dare due schede, però dare due schede ai giovani secondo me è meglio che vanificare quella che ci hanno.